Ben tornati sul canale di TheChastis, se il vostro budget per un telefono cellulare si aggira intorno ai 150€ valutate l'acquisto di LG Spirit 4G LTE con il suo design leggermente curvo, con un hardware piuttosto buono un display in HD e fotocamera da 8MP promette bene, ma ci sono anche cose che è bene analizzare insieme non perdetevi questo video Ecco la confezione di vendita di LG Spirit 4G LTE, colorazione celeste, scatolina che si apre e ci fa vedere il cavetto di connessione al computer, gli auricolari di media fattura e il connettore di ricarica da parete ovviamente è presente anche il manualetto piccolo piccolo per la garanzia e le istruzioni Questo è LG Spirit 4G con la back cover grey oppure grigia di fattezza lucida, leggermente satinata L'effetto in mano è molto buono anche perché il telefono non è particolarmente grande Misure 133,2 x 66,1 x 9,95 mm di spessore, leggermente curvo, quindi non pari, il suo peso è di 124 grammi Anteriormente fotocamera anteriore da 1MP, ovviamente la griglia da cui esce la voce in conversazione non c'è il LED di stato, in basso nessun tasto fisico, solo la scritta LG, lateralmente niente e niente tutto sta sul retro come tradizione LG fotocamera posteriore 8MP, pulsante su e giù del volume, accensione blocco sblocco, flash della fotocamera e altoparlante di sistema In basso troviamo ingresso per il cavetto micro USB e il microfono principale da cui entra la voce In alto jack per le cuffie e secondo microfono per la soppressione dei rumori Come tradizione LG ha il knock code, quindi si rianima con il doppio tap e si spenge con il doppio tap Android 5.0.1 Lollipop a bordo, display da 4,7 pollici, risoluzione HD 720 x 1280 pixel, 312 ppi Abbiamo un processore Snapdragon 410 da 1.2 GHz quad core La RAM a disposizione su questo LG Spirit è di 1 GB Quindi andremo a vedere poi se sarà una cosa limitante o meno Memoria di archiviazione 8 GB, espandibili con schedine micro SD Funziona con schedine micro SIM, dotato anche di radio FM, che ve la faccio vedere subito Eccola qua Collettività 4G, LTE, Bluetooth Il Wi-Fi prende molto bene E l'audio in conversazione è molto molto buono Questa è la tastiera per comporre i numeri Non è che sia elegantissima come su tutti i LG Però è molto diretta e molto semplice da utilizzare Andiamo nel dettaglio a vedere un po' come funziona questo LG Spirit 4G Divisione del menu di postazioni, quattro sottosezioni In generale abbiamo l'info sul telefono e informazioni sul software che ci fa vedere Android 5.0.1 a bordo Andiamo anche nella sezione dell'archiviazione per iniziare subito con le note dolenti 8 GB lo spazio totale Ma 5 GB sono già occupati o quasi dal sistema operativo Io ho solo installato Facebook, Whatsapp e un navigatore satellitare Ho installato il Navigon Siamo già a una memoria disponibile di 886 MB Quindi potrebbe essere un problema per tutti coloro che hanno bisogno di memoria per installare applicazioni Ok ci sono schedine micro SD per espandere la memoria Quindi potremo salvare musica e foto sulla schedina micro SD Ma alcune applicazioni necessitano dell'installazione direttamente nella memoria del telefono Quindi ahimè quando questa si riempirà il telefono non potrà più ricevere ulteriori aggiornamenti O ulteriori espansioni di memoria Quindi detto questo andiamo anche a vedere il menu a tendina Quindi tutti i toggle disponibili nei LG di ultima generazione Quindi con disegni diciamo cerchi con possibilità di regolare la luminosità del display Il volume della chiamata Abbiamo detto non c'è la luminosità automatica Quindi la luminosità andrà settata sempre manualmente Andiamo a parlare di parte multimediale Quindi la fotocamera Il menu della fotocamera è quello classico di LG di ultima generazione Quindi possiamo nascondere o meno tutte le opzioni sui bordi del display Possibilità di mettere il flash in automatico o manuale Girare la fotocamera Non vi faccio vedere l'anteriore perché 1 megapixel sinceramente è sinonimo anche di una qualità non tanto eccellente Come scatta le foto? 8 megapixel ma in 4 terzi 6 megapixel in 16 noni Possibilità anche di ridurre a 5 o a 3 megapixel lo scatto della fotocamera Video girati a una risoluzione massima di full hd 1920x1080 pixel C'è lo scatto al CIS C'è il timer e c'è anche la griglia per fotografare meglio l'immagine Il soggetto Prendiamolo questo soggetto e scattiamo una foto E vedete come non sia proprio un fulmine Questo LG Spirit 4G nel mettere a fuoco e nello scatto Andiamoli a vedere questi scatti passando dalla applicazione galleria Vedete anche l'apertura non è che sia proprio fulmine Una volta che l'ha aperta però le cose vanno decisamente meglio Come vengono gli scatti Gli scatti vengono se avete la pazienza di mettere a fuoco vengono abbastanza bene Se avete fretta questo non è il telefono che fa per voi Perché ci mette tanto questo telefono a mettere a fuoco l'immagine E tende a dare immagini non troppo perfette Ok nella distanza ravvicinata con i flash non ci sono problemi Le foto vengono abbastanza bene Ma dove ci sono problemi ci sono Nelle ambienti con scarsa illuminazione Vedete già che c'è abbastanza rumore su questa foto E anche con l'utilizzo del flash Quando ci sono diversi colori sulla scena Diciamo che lo sfondo chiaro tende a essere un pochino pastelloso Vedete anche questa parete che dovrebbe essere bianca Accanto alla bomboletta dorata Vedete tende a ingiallire tutta la scena Altra foto fatta in ambienti esterni con luce artificiale Vedete quanto rumore ci sia in questo palazzo Foto a distanza Qui invece foto in una stanza completamente al buio Con il flash vedete c'è questa nebbiolina di sottofondo Che ci fa capire che LG Spirit 4G Non è proprio il telefono ideale Per quanto riguarda gli scatti fotografici Ma parliamo anche di parte audio Quindi andiamo nella sezione musica Classico lettore di LG E andiamo a sentire da questo altoparlante Posto qua dietro come funziona Come rende l'audio Ecco l'audio di questo LG Risulta piuttosto alto Non ci sono tanti bassi ovviamente Ma l'audio direi che è una parte che mi sento di promuovere tranquillamente Andiamo a vedere anche la navigazione internet Browser stock E vediamo sotto copertura wifi Come si comporta Con questa scusa vi faccio vedere anche la tastiera di questo telefono Che si può regolare nelle impostazioni Nella altezza Quindi possiamo Scusate Altezza della tastiera Possiamo Portando giù il cursore Vedete ridurre la tastiera Oppure alzarla fino a questa altezza massima Anche il layout può essere cambiato Possiamo personalizzare i tasti impostazioni E i tasti della punteggiatura Accanto allo spazio Alla barra spaziatrice Detto questo Torniamo sulla navigazione internet Sito della Repubblica Andiamo nella home page classica Per vedere il sito in desktop mode Quindi piuttosto pesante e laborioso per il browser Ecco qui il pinch Vedete non ha recepito il doppio tap Vedete Finché non ha caricato la pagina Il telefono soffre Soffre tanto nella navigazione internet Questo Snapdragon 410 Quad Core Non è che sia proprio adattissimo Vedete anche difficoltà nel rendering Apriamo anche Una notizia Vediamo Come si comporta Il tempo di trovarne una Ecco qua L'apertura è abbastanza buona Quello che mi spaventa È la navigazione Fra i vari menu Perché come avete visto Questo browser è leggermente scattoso E ha qualche difficoltà Una volta caricata la pagina Poi non ci sono grandi problemi Forse qualche Microsecondo di attesa Per il rendering completo della pagina Però direi nulla di preoccupante Quello che per me potrebbe essere un problema È la navigazione nella pagina Bella pesante Fino a che questa non viene caricata C'è oggettivamente tanta lentezza Bene Oltre a tutto ciò C'è da parlare dell'interfaccia classica di LG Spirit L'interfaccia LG è molto completa Quindi possiamo cambiare il colore delle cartelle Possiamo cambiare il nome delle cartelle Possiamo creare nuove pagine ed eliminarle In maniera tutto molto semplice Oltretutto l'interfaccia di LG supporta di default i temi Quindi possibilità di cambiare la grafica di questo telefono E possibilità di scaricare nuovi temi Sia dalla sezione LG Smart World Sia dalla sezione del Play Store Bene Cosa dire in definitiva di questo telefono È un telefono che online È possibile acquistarlo a circa 150 euro Quindi il prezzo è veramente allettante Per questo LG Spirit 4G LTE Abbiamo visto che gira piuttosto bene Non è un fulmine Ogni tanto ha qualche piccolo rallentamento Andiamo a vedere per sicurezza anche la gestione della RAM Così poi non dite che non vi dico le cose Andiamo a vedere Andiamo a vedere Vedete anche i megabyte di RAM liberi Sono 355 Davvero cominciano ad essere pochi Quando va sotto i 300 il telefono comincia a laggare Quindi attenzione a quante applicazioni tenete aperte nel multitasking Detto questo 159 euro Il prezzo online di questo LG Spirit 4G È un telefono che viene sicuramente apprezzato per questo suo design leggermente curvo Che ricorda il nuovo LG G4 Il top di gamma di LG È un telefono che ha un display Diciamo Degno di nota Suficiente Diciamo Con una qualità Buona Direi Un display in risoluzione full HD Non è il display più bello del mondo Ma stiamo parlando di una fascia di prezzo Medio-bassa Ve lo ricordo Quindi andiamo a dire i pro e i contro Sicuramente i pro Qualità telefonica Riproduzione della musica dall'altoparlante Conversazione pulita Un design moderno E una cosa che non vi ho detto Una batteria da 2100 mAh Che si comporta molto molto bene Vi faccio vedere uno screenshot che avevo fatto Prima di ricaricare il telefono Sono arrivato ad avere il 29% E ad aver fatto più di 3 ore di display Quindi prevedo 3 ore e mezzo di display acceso Con questo LG Spirit Una durata della batteria molto molto buona Fra le note dolenti di questo LG Spirit 4G Sicuramente da annoverare gli 8 GB di memoria di default Che abbiamo visto si riempiono molto molto in fretta Una qualità fotografica non eccelsa Quindi foto mediocri E un sistema generale Che ogni tanto ha qualche impuntamento Qualche freeze Un vero peccato Forse con le nuove release software Questo problema di blocchi di freeze Verrà risolto Comunque 150 euro Per questo LG Spirit 4G LTE È un ottimo prezzo Anche perché con questa cifra Difficilmente ci sono telefoni migliori Bene Spero di avervi reso le idee più chiare Riguardo a questo telefono Attenzione Perché in commercio c'è anche la versione Non 4G LTE Ma semplicemente 3G Con processore Mediatek E fotocamera da 5 megapixel Il codice di modello Di La versione che ho citato È H420 Questa versione Di questa recensione È il modello H440 Bene Direi che è tutto Se avete domande fatele pure Io vi do appuntamento al prossimo video Sul canale di Deciasti Ciao ragazzi Grazie a tutti